Simone Martini, Presidente dell'Ant, una bella iniziativa fra Medici e Ant, beneficenza in questo periodo natalizio? Sì, una bella iniziativa fra Medici e Ant e Villa Donatello, che sarà la sede dove alla fine metteremo a disposizione dei cittadini di Firenze le giornate di prevenzione oncologica gratuita. Un calendario realizzato in modo stupendo, il cui ricavato andrà interamente a finanziare i nostri progetti e quindi la salute dei cittadini di Firenze. Una bella iniziativa che spero potrà piacere incontrare l'interesse dei tantissimi appassionati di regui, ma non solo, è un calendario assolutamente da vedere e da acquistare. Grazie.